Ciao, sono Adriana e oggi sono qui per invitare a partecipare all'FDM Song Contest. Si tratta di un concorso indirizzato a tutti i cantanti, cantautori, rapper, chiunque scriva musica e abbia voglia di mettersi in gioco dai 16 ai 30 anni. Il tema di quest'anno è vivere perdono, perciò le canzoni presentate dovranno trattare per questa tematica. Potete parlare della vostra storia, dei diritti umani, dei diritti ambientali, qualsiasi cosa vi rappresenti e secondo voi sia giusta rispetto alla tematica. Quest'anno i dieci finalisti potranno registrare il loro pezzo in uno studio professionale e il pezzo verrà poi distribuito su tutte le piattaforme di streaming. Inoltre il 2 ottobre 2022 potrete esibirvi sul palco del Festival della Missione. Come iscriversi potete farlo su www.festivaldellamissione.it lì troverete sia la possibilità di iscriversi direttamente e mandare il vostro pezzo, sia a tutte le informazioni rispetto al regolamento del contest. Ciao!